Musica Tentata rapina, sequestro di persona, resistenza pubblico ufficiale. Queste le accuse con cui la Digos di Torino, in collaborazione con quella di Varese e la polizia di Susa, ha arrestato a Dumenza, vicino a Varese, l'attivista Notav Davide Gioele Giacobbe. 33 anni, era tra gli attivisti che presero parte ai disordini del 16 novembre scorso a Chiomonte.